All'interno è la Torino Iquartu, Sant'Ele d'Atespiense e cambia per prima, poi Monte Arce, Manurio, Atletica, Valeria e la Picno. Cambio, ancora siamo andati, è un cambio, è un internazio, il terzo e quarti che da comando cambia per prima, la Picno. La Picno è la Torino Iquartu, la Picno è la Torino Iquartu, la Picno è la Torino Iquartu che va a vincere sulla Quintica Valeria, la Picno è il molto bene, la Picno è la Torino Iquartu, la Picno è la Torino Iquartu.